Settembre porta via i saldi in Abruzzo. Dopo mesi e mesi di restrizioni, chiusure e sacrifici, questa stagione di acquisti era parecchio attesa dai commercianti e dagli esercenti della nostra regione. Il bilancio dei consumi nel complesso è positivo, secondo Confesercenti. Ci aspettavamo un dato che riportasse un pochettino il sorriso degli esercenti e così è stato. Grazie a un turismo importante, numericamente importante, l'attività dei saldi che era partita in Sordina all'inizio di luglio è diventata un'attività che ha portato un buon risultato che tutti i commercianti attendevano. La ripresa del commercio è stata data più dai turisti che dai residenti e quindi ne hanno goduto maggiormente le città che si propongono come meta dei visitatori. Dopo il boom dell'online speriamo che si torni a frequentare i negozi, ha detto al TG6 il direttore Tauci. Sicuramente questo è un dato che ha favorito soprattutto la città di Pescara che ha avuto una presenza importante. Un po' diversa è stata la situazione nelle altre città e negli altri luoghi però il dato finale è stato un dato che ha riportato un po' l'ottica degli anni passati rispetto a quello che era accaduto anche l'anno scorso con tante titubanze. Ci aspettiamo che il commercio ricominci ad avere una normalità facendo sì che soprattutto il residente ricominci a utilizzare i vecchi sistemi di acquisto e quindi frequentare molto di più i negozi presenti in città anche perché significa mantenere forte e salda un'economia locale. Grazie. Grazie.